Buon pomeriggio e bentrovati con informazione locale. Oggi è mercoledì 17 ottobre 2023 in redazione Mauro Malaguti. A Bari sei persone sono state arrestate in relazione destorsioni, usura e possesso di armi. Tra gli arrestati un avvocato che avrebbe condotto le vittime nel suo studio legale per sfuggire agli usurai, ma invece le ha esposte a un clan locale che ha estorto somme con interessi usurai. Le vittime hanno subito violenza e minacce. L'avvocato è accusato di aver agevolato il reato e di aver mostrato legami ambigui con la criminalità locale. I carabinieri della compagnia di Vico del Gargano hanno eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di tre uomini. Due sono originari di Vico del Gargano e uno di Ischitella, ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall'uso di un'arma e in debito utilizzo di Bancomat, perpetrata ai danni di due anziani, fratello e sorella di Ischitella. Isole Tremiti. 18 persone sono state segnalate alle autorità giudiziarie per violazioni contro il paesaggio e il patrimonio culturale. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari hanno contestato abusi che danneggiano il patrimonio culturale e il paesaggio, compresi interventi non autorizzati nelle aree demaniali. Le violazioni principali sembrano coinvolgere l'isola di San Nicola, il nucleo antico dell'arcipelago. La condanna all'ergastolo di Giovanni Caterino, accusato di essere il basista della strage di San Marco in Lamis del 2017, è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa. Caterino è stato arrestato nel 2018 e ha sempre dichiarato la sua innocenza. È stato considerato l'autista del commando che ha ucciso Mario Luciano Romito, figura di spicco della mafia garganica, assieme a Luigi e Aurelio Luciani, due fratelli agricoltori che erano testimoni involontari degli omicidi. Ed ora la linea passa da Antonio Villani per gli aggiornamenti sportivi. Mauro è scattato il conto alla rovescia per il Galà dello Sport che si terrà a Vico del Gargano venerdì 27 ottobre, tutto il Gargano con Gargano FM, con Mauro Malaguti presenti quella sera, grande parterre, confermato l'arrivo di Pasculli, campione del mondo nell'86 con l'Argentina di Maradona e anche nel 79 porterà la Coppa del Mondo, confermato ancora oggi, confermatissimo alla presenza dell'allenatore della nazionale di pallavolo Fede Giorgi, oltre che al Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Manfredi, sarà una serata particolare, verranno svelati i premiati tra qualche giorno, poi ve li darò in anteprima, però insomma il Gargano quella sera sarà al centro dell'attenzione regionale, ci sarà la presenza confermata anche oggi del Presidente regionale Coni, Angelo Gilberto, e del Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio della Regione Puglia, Vito Tisci, oltre a tutti i sindaci dei comuni interessati alle premiazioni, e oltre all'amministrazione comunale di Vito Gargano che ha messo a disposizione l'anfiteatro, ma soprattutto sta organizzando con gli organizzatori questa manifestazione che, ripeto, sarà molto 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 bella in un anfiteatro spettacolare. Allora Mauro, per oggi è tutto, ti ridò e dirò la linea e logicamente Gargano FM e Mauro Malaguti saranno presentissimi al grado dello sport. Grazie Antonio, ti confermo che noi ci saremo e naturalmente invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori a questo grandissimo evento che si terrà a Vico del Gargano, ma ne parleremo ancora nei prossimi giorni. L'appuntamento intanto è per domani, alla stessa ora, sempre su Gargano FM. Vi aspettiamo con l'informazione locale.